Grazie Giacinto, fatica, sudore, coraggio. Guardate questa foto, è diventata il simbolo dell'impegno dei Vigili del Fuoco. In questa estate segnata dagli incendi, è stata scattata a Carlentini nel Siracusano. E lì siamo tornati per incontrare questi tre eroi con Isabella Romano. Sul viso il sudore impastato col nero della cenere, stremati a terra, sfiniti dopo 11 ore a combattere le fiamme. La foto che ci hanno scattato descrive perfettamente lo stato di emergenza che viviamo. Perché noi non vorremmo mai sederci, nemmeno per un minuto. Però se lo abbiamo fatto è perché veramente eravamo stremati. Sembrano quasi scusarsi per quell'attimo di meritata tregua. Sono i Vigili del Fuoco di Lentini. Nella foto sono in tre, ma in realtà erano sei. Quella foto ha ripreso noi, ma in realtà sono tutti colleghi che giochiamo su questa linea. Perché siamo tutti sotto torchio, soprattutto in questi momenti particolari. Il rischio, il caldo, la stanchezza, un corpo a corpo con l'emergenza che ogni anno ritorna, sempre più prepotente nella loro terra. I miei occhi vedono gente che ha bisogno d'aiuto e una terra che ha tanto bisogno d'aiuto. Noi amiamo molto la nostra Sicilia e insomma vederla così in ginocchio ci fa molto male. Lavoreremo anche di più. Andrea, Tullio, Cristian hanno di nuovo indosso la divisa, anche oggi, che sono diventati un simbolo della lotta contro gli incendi e la mano criminale dell'uomo. Un corpo nazionale e uomini che intervengono H24 in tutti gli scenari, come stiamo vedendo anche in questi giorni, in Sicilia, in Sardegna, in Calabria, ovunque ci sia bisogno, negli incendi, così come nelle alluvioni e in altre emergenze.